Sì, come mai arrivate? Eh, perché è arrivato? Perché è la pressione della tuteca della nuova E neanche l'ho da rara 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 70 E neanche l'ho da rara E neanche l'ho da rara E neanchella E neanche l'ho da rara E neanche l'ho da rara 5 Grazie a tutti. Grazie a tutti.